buon anno in anticipo si è vero che mancano ancora due orette e mezza non facciamo come fantozzi però buon anno perché poi i vostri e il mio telefono si intaseranno quindi buon anno di cuore a chi ha fatto del bene e buon anno di doppio cuore a chi si prepara a fare altro bene un pensiero speciale a chi sta lavorando in questa notte di san silvestro ai medici agli infermieri ai poliziotti ai camerieri ai casellanti ai pompieri a tutte le donne gli uomini che fanno del volontariato che anche nei giorni di natale nei giorni di festa portano un sorriso nelle case negli ospedali nelle case di riposo nei luoghi di sofferenza dove la festa si sente due volte perché non c'è nessuno con cui festeggiare con cui tagliare una fetta di panettone o con cui aprire uno spumante quindi un pensiero in particolare a chi è solo augurando a lui e a tutti coloro che gli sono vicini di essere meno soli nell'anno prossimo da parte mia un enorme grazie un enorme grazie perché in quest'anno abbiamo vissuto emozioni straordinarie penso che al governo abbiamo dimostrato di essere persone concrete coerenti serie che mantengono la parola ecco la lega al governo ha dimostrato al popolo italiano che volere è potere che non c'è nulla di impossibile ripercorrendo gli ultimi mesi difficoltosi peraltro con degli alleati che erano più le volte che frenavano rispetto a quelle in cui ci aiutavano una legge normale sulla legittima difesa e il mio pensiero a tutte le donne e uomini aggrediti che per difendere se stessi le proprie mogli i propri figli la propria vita hanno rischiato processi o rischiano processi ecco la nuova legge metterà una tutela in più a favore delle persone per bene la flat tax per milioni di partite iva artigiani commercianti piccoli imprenditori liberi professionisti quota 100 che ha restituito anni di vita di lavoro di diritti di speranza una legge nel nome della dignità del lavoro del futuro del ricambio generazionale e guai se l'attuale governo proverà a toccare quota 100 dovranno passare sui nostri corpi lo dico senza se senza mai senza tante mezze parole non ve lo permetteremo mai di tornare alla legge fornero e a sinistra purtroppo c'è nostalgia di legge fornero ma è una differenza non solo economica penso che sia una differenza antropologica culturale da una parte c'è l'invidia il rancore la rabbia l'odio sociale per colui che ce la fa per chi ha successo per chi merita per chi fa un passo avanti perché purtroppo a sinistra c'è questa mentalità perversa per cui mal comune mezzo gaudio bisogna stare tutti male perché è così ci pensa lo stato ci pensa il grande fratello ci pensa il partito avremmo detto una volta avanti avanti per un 2020 fondato sulla libertà sui diritti sui valori la libertà di cura la libertà di educare i propri figli come meglio si crede la libertà di ricerca la libertà in ambito giudiziario e se il 2020 dovrà essere l'anno in cui verrò processato lo farò a testa alta a nome di un popolo se qualcuno pensa di poter processare matteo salvini o la lega per aver difeso i confini la sicurezza l'onore e la dignità di un grande paese come l'italia bene non processerà un singolo processerà un intero popolo fatevi avanti non abbiamo paura di niente di nessuno i senatori giudichino con coscienza e poi dritti perché come diceva la mia nonna male non fare paura non avere quindi un anno bello l'anno che ha portato finalmente a rievio della tav che collega l'italia con il resto d'europa e adesso la sfida è però è collegare anche tutta italia collegare napoli con bari completare migliorare sistemare la statale 106 in calabria la strada della morte la strada della vergogna completare in emilia romagna le decine di infrastrutture ferme da una vita per colpa di una sinistra incapace la cispadana la tirreno brennero le dighe sugli appennini per aiutare gli agricoltori e per aiutare i cittadini di quelle valli troppo spesso dimenticate dalla sinistra al governo quindi più infrastrutture più sorriso più futuro più sviluppo più giovani però senza retorica ci sono giovani in gambe giovani meno in gamba ci sono anziani in gambe anziani meno in gamba quindi un anno senza retorica di concretezza di idee chiare noi ci siamo io non vedo l'ora di cominciare sto rifiatando qualche giorno con mia figlia e stare insieme ai bimbi ho fatto qualche giorno con mio figlio di 16 anni pochi giorni fa adesso con una bimba di sette anni è bello in mezzo a gente normale passeggiando per le vie del paese ti fermano e ti dicono ed è questo quello che mi dà una forza incredibile matteo contiamo su di voi mandateli a casa non ne possiamo più incapaci litigiosi incompetenti vicidi senza parola senza onore senza visione senza progetto un governo che sta insieme per tirare a campare per non perderlo stipendio a fine mese litigiosi su tutto salta un ministro se ne inventano due con le benedizioni degli ultimi poteri forti rimasti a presidiare un'italia che è ostaggio di una minoranza al governo abbiamo quelli che hanno perso tutte le ultime elezioni in questo 2019 io ringrazio i tanti italiani che hanno scommesso sul futuro sul cambiamento sull'onestà sulla trasparenza sulla serietà e quindi ringrazio gli elettori dell'abruzzo della sardegna della basilicata del piemonte dell'umbria di tutte le regioni che erano governate dalla sinistra e adesso vedono donne e uomini della lega del centrodestra dimostrare che facciamo meglio rispetto agli altri 26 gennaio sarà una data storica perché toccherà finalmente anche agli elettori alle donne agli uomini ai cittadini di emilia romagna e di calabria bello non sapete quanto vi invidio e quanto vi invidiano in tanti di coloro che stanno scrivendo sonia lucia edi luisella io sono felice perché stiamo portando avanti tutti insieme anche grazie a voi ogni tanto vogliono mettere il bavaglio ai social a facebook a instagram a twitter no noi non permetteremo che imbavaglino il pensiero libero e andremo avanti la cosa bella è che stiamo facendo una rivoluzione culturale quando andremo al governo faremo sicuramente la riforma della giustizia la riforma la scuola la riforma fiscale concludendo la pace fiscale liberando cartelle di equitalia che li stanno tenendo sotto sequestro quindi sicuramente quello però soprattutto una rivoluzione culturale culturale noi portiamo avanti valori di libertà che guardano al futuro altri sono fermi a processare il passato cercano fascisti che non trovano più nazisti che non trovano più razzisti che non ci sono gli italiani sono il popolo più generoso più solidale più accogliente che ci sia al mondo il popolo che ha da insegnare volontariato a tre quarti del pianeta però un conto essere buoni generosi solidali accoglienti un conto è farsi mettere i piedi in testa e no noi siamo disposti a dare rispetto ma chiediamo in cambio rispetto e il mio pensiero in questa notte di festa di fuochi artificiali di botti di spumante di prosecco va alle centinaia di milioni di cristiani perseguitati nel mondo nel silenzio di quasi tutti nel silenzio spesso delle gerarchie ecclesiastiche nel silenzio delle televisioni dei giornali degli intellettuali degli artisti dei cantanti di tutti quelli che giustamente stanno attenti a ciascuna minima sofferenza nel mondo avere 200 milioni di cristiani perseguitati nel mondo pare normale avere nel 2018 4.000 donne uomini uccisi massacrati seviziati e torturati solo perché cristiani sembra normale e quindi un 2020 di lavoro di impegno di onestà di sorriso non ci toglieranno mai il sorriso la voglia di vivere la voglia di sperare la voglia di credere in dio anche su questo hanno fatto polemica io ringrazio per la poca e spero che sia sempre di più fede che il buon dio e il cuore immacolato di maria riescono a portare in me e in tanti altri e spero che sia sempre più grande questa fiamma che scalda perché io mi rifiuto di pensare che la missione dell'uomo e della donna si esaurisca su questa terra e torneremo a essere cenere come cenere eravamo io conto che quello che stiamo seminando qua sicuramente sia di aiuto per i nostri figli per i nostri nipoti ma che la vita prosegua e che dall'alto qualcuno stia aiutando non un partito non un politico ma un paese a ritrovare la sua strada la strada che che sta perdendo chiudono aziende chiudono negozi chi può scappa all'estero chi può manda i figli all'estero a studiare un pensiero un abbraccio ai milioni di italiani all'estero questi questi lo dico a tutti coloro che hanno responsabilità dal presidente all'ultimo degli assessori questi sono gli immigrati su cui lavorare i troppi italiani costretti a scappare nel mondo a scappare dalla calabria a scappare dalla lombardia a scappare dalla sicilia e a scappare dal lazio questi sono donne e uomini a cui permettere di poter tornare nel nostro paese costruendosi un futuro con meno tasse meno burocrazia una giustizia più veloce io ho inchieste facevo mente locale oggi mentre passeggiavo con mia figlia ho indagini aperte per abuso d'ufficio sequestro in persona vilipendio alla magistratura istigazione all'odio razziale diffamazione altre le ho perse per strada non so quante procure stiano indagando sul pericolosissimo matteo salvini un pericolo per la democrazia ma dai ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando avanti col sorriso l'unico modo per rispondere alle cattiverie di certa sinistra quella che oggi a livorno anche nell'ultimo dell'anno a livorno è stato aggredito un consigliere comunale della lega solo perché leghista da otto delinquenti non si chiamano antagonisti comunisti no sono delinquenti quelli che se ne apprendono con un uomo o con una donna perché la pensano politicamente in maniera diversa e poi è bello che vanno nelle piazze a dire che il pericolo è la lega che la lega semina odio semina razzismo semina rancore bacioni lavoro e sorrisi bacioni lavoro e sorrisi a voi alle sardine ai merluzzi a conte a renzi a di maio a zingaretti a coloro che vanno avanti a colpi di no pensate che in emilia romagna il pd è così preoccupato che bonaccini sta insultando da giorni lucia borgonzoni a cui va la mia solidarietà non come donna ma come italiana però calunniata denigrata infamata attaccata come donna io sono orgoglioso che invece la lega il centrodestra abbiano tante donne da mandare avanti guarda caso in umbria c'era un uomo della sinistra e la grande donatella che è diventata governatrice in emilia romagna c'è un uomo della sinistra e lucia che diventerà governatrice in calabria c'è un uomo della sinistra e iole del centrodestra che diventerà governatrice ecco tutte le pseudo femministe radical chic di sinistra che si riempiono la bocca di parola e poi quando c'è da scegliere se la lega candida una donna boom giù insulti giù mazzate dai e noi rispondiamo col lavoro con la coerenza col sorriso con la volontà di fare sempre meglio e di sbagliare sempre meno e io sono felice sono un po stancotto perché è stato un anno impegnativo ma vi assicuro che nel 2020 ci metterò ancora più energia sicuramente per carità di dio non c'è nessuno di perfetto a questo mondo tranne conte renzi di maio e zingaretti che sono al governo e stanno restituendo lavoro soldi agli italiani adesso a gennaio arrivano le nuove pensioni con l'elemosina di qualche centesimo di euro di questo governo un pensiero agli ultimi dicevamo ai disabili al popolo degli italiani dimenticati io sono orgoglioso che il governo di cui la lega ha fatto parte sia stato il primo nella storia ad avere un ministero per la disabilità per ascoltare per incontrare per tagliare burocrazia per cominciare un percorso di inclusione perché è facile fare i discorsi di fine anno per la pace nel mondo tutti amici per carità di dio poi le cose bisogna farle bene qual è stato uno dei primi atti del nuovo governo pd 5 stelle cancellare il ministero per i disabili vergogna vergogna vorrei che fossero qua a guardare per dirgli dal profondo del cuore il mio disprezzo per questa scelta vergognosa una volta a sinistra stava con gli ultimi adesso ormai nelle sedi del pd ci sono più banchieri che che lavoratori che precari ecco cancellare anche il ministero dedicato alle disabilità ai non udenti ai non vedenti alle malattie psichiatriche all'autismo ai tantissimi problemi che stanno bloccando grandi e piccini è una roba folle ecco chi si è reso responsabili di questa scelta misera per quello che mi riguarda dovrà vergognarsene per il resto dei suoi giorni arrivare fino a cancellare per disprezzo proprio per ignoranza per meschinità il ministero della disabilità ci sono la stragrande maggioranza dei cosiddetti disabili fisici psichici sensoriali che sono molto più abili e molto più normali fra mille virgolette di qualche politicante attaccato alla poltrona in quel di roma vergognatevi e quindi vedremo di dare voce a chi voce non ce l'ha ai cristiani perseguitati nel mondo ai milioni di disabili alle loro famiglie a quelle mamme a cui papà a quei figli a cui non si può negare un sorriso non si può negare il lavoro ecco magari sono parole scomode magari bisogna fare dei discorsi capodanno più melliflui più incolori più indolori più insapori dritti ragazzi o facciamo in fretta o questo paese si spegne il 2018 è stato l'anno in cui gli italiani hanno fatto meno figli nella storia della repubblica italiana e il 2019 andrà anche peggio o facciamo in fretta ad aiutare le famiglie a costruirsi in futuro un progetto di vita o facciamo in fretta ad aiutare i giovani ad avere un lavoro serio e stabile non precario a vita per poter chiedere un mutuo per uscire di casa dai genitori senza stare con mamma e papà fino a 40 anni oppure fra 30 anni il discorso di capodanno dopo di noi lo farà qualcuno che vive in un paese desertificato senza più radici senza più sorriso senza più speranza ecco noi lottiamo per mantenere il bello dell'italia che sono le sue differenze le sue identità i suoi profumi i suoi dialetti dalle alpi alla sicilia belle le cucine i teatri i sapori i profumi le musiche combattiamo tutti insieme contro il pensiero unico poi vado giù e torno da mia figlia che stasera è una principessa spettacolare con una corona incredibile le ho detto guarda papà sale dieci minuti per parlare ai suoi amici perché io la penso così veramente non le ho detto papà va su un attimo in stanza lavorare papà sale perché deve salutare i suoi amici metto ma chi sono i tuoi amici e sono tanti sono daniel sono dina sono vilma sono luca sono luisella a volte sono donne uomini di cui non conosco il volto ma di cui sento il calore l'affetto e badate bene affetto calore e fiducia che valgono più del voto il bello di questi giorni in cui mi sto disintossicando non leggo giornali non guardo telegiornali non ascolto rassegno stampa quando ti immergi nella vita reale della gente normale che ti ferma e ti dice grazie solo grazie per quello che voi e la lega state facendo per l'italia e per i nostri figli ah ossigeno ossigeno e quindi poi ti viene voglia di lasciare ai conte ai renzi ai di maio e gli zingaretti ai bonaccini le loro polemicucce vogliamo alto speriamo in grande per l'italia se puoi sognarlo puoi farlo diceva wall disney che qualcosa di grande l'ha lasciato su questa terra quindi che sia un anno in cui sognare grandi cose per i nostri figli non accontentarsi un'italia che può tornare a essere ricca non è una parolaccia la sinistra l'odio sociale per chi ce la fa per chi merita per chi vince un concorso per chi apre un'azienda per chi apre una partita iva per chi ha successo io voglio invece un paese che guarda con ammirazione a chi ce la fa e cerca di tagliare lacci e lacciuoli per permettere a sempre più persone di farcela di andare verso l'alto per correre verso l'altro non per correre in discesa la decrescita felice di beppe grillo che scava le buche o il nulla cosmico del ciuffo di conte o il vuoto pneumatico di zingaretti che sarebbe anche governatore di una regione peraltro a tempo perso a proposito un abbraccio particolare e un impegno per un anno sicuramente migliore ai cittadini di rome del lazio che non si meritano una raggi e uno zingaretti ma anche ai cittadini del della puglia che non si meritano un emiliano qualunque o della campania che non si meritano un de luca un de magistri ecco noi non facciamo miracoli però papà matteo matteo salvini 46 anni milanese milanista italiano leghista senatore fino a quando gli italiani lo vorranno continuare a fare senatore se torneremo al voto come torneremo al voto questo è l'impegno che mi sono preso io sono testone non mollo e quindi fino a che non permetteranno agli italiani tornare a votare noi siamo sul pezzo perché vogliamo continuare quello che abbiamo fatto per un anno nel nome della libertà della sicurezza del lavoro della pace fiscale e quindi grazie grazie a carolina grazie a stefano grazie a quinto grazie ad anna io il due ricomincio il due qua a bormio in alta valtellina con un incontro pubblico poi cinque sarò in provincia di bologna poi sarò a faenza poi sei ancora sarò in mezzo ai poliziotti a bologna ecco fatemi dare un particolare abbraccio a donne uomini in divisa qualunque divisa indossino forze dell'ordine esercito marina aeronautica medici infermieri ecco un abbraccio particolare ai volontari ai medici ai soccorritori del 118 sperando che voi stasera coi petardi e coi penso a coloro che stanotte soffriranno per il casino degli umani che troppo normali non sono quindi grazie adesso torno giù da mia figlia che mi dirà papà hai salutato i tuoi amici ci hai messo un po troppo ma sono tanti fortunati di questo paese quindi grazie a voi chiamate questo paese chiamate le nostre città le nostre tradizioni quello che ci hanno insegnato i nostri nonni i nostri genitori vi faccio una promessa quest'italia tornerà 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 non accontentiamoci di quello che ci stanno vendendo come il massimo il precariato a vita l'insicurezza città buie i coprifuoco donne non mettete la minigonna perché non si sa mai ragazzi non uscite la sera perché non si sa mai no ragazzi torniamo a sognare in grande l'italia merita questo e altro un paese bello perché il buon dio ce l'ha lasciato bello ricco perché abbiamo gli imprenditori gli artigiani gli operai i tecnici gli ingegneri migliori al mondo bello ricco sicuro fatemi tornare al ministero dell'interno e vedrete vedrete zero zero entra in italia chi ha il permesso per gli altri andale il mondo è grande il mondo è grande l'italia non può essere il centro profughi di tutto il mondo un paese bello ricco felice che torna a mettere al mondo dei figli e che vuole bene e che vuole bene grazie dal profondo di questo piccolo cuore per l'energia per l'affetto per il sorriso che non ci toglieranno mai così come non ci torneranno non ci toglieranno mai l'orgoglio di essere figli di questo dio di questa terra e di questo grande popolo un bacione torno dalla mia bimba però i vostri figli e le vostre figlie sono come fossero figli miei se voi non mollate ve lo prometto finché il buon dio mi salute io non mollo e questo paese tornerà un grande paese